lunedì nove agosto buongiorno a tutti e buon inizio settimana noi siamo pronti puntuali come ogni giorno per il nostro appuntamento delle sette con la rassegna stampa prima però di andare sui quotidiani di oggi diamo come sempre uno sguardo al meteo andiamo a vedere le temperature che si registrano in queste prime ore del giorno in Friuli Venezia Giulia con l'ausilio anche di eh alcune immagini e questa ci arriva dal monte eh Zoncolan un'immagine davvero particolare quella di oggi con il sole che cerca di spuntare tra eh le nuvole tra un po' di eh foschia sul monte Zoncolan in questo momento la temperatura è di undici gradi e nove decimi rimanendo sempre in montagna forni di sopra tredici gradi e nove decimi a Sappada il termometro segna nove gradi e quattro ed ecco qua l'immagine che ci arriva da Sappada sempre in montagna sul monte Lussari dieci gradi e mezzo a Fondovalle a Tarvisio quattordici gradi e sette decimi sul piancavallo dieci gradi e quattro scendiamo verso la pianura adesso a Tolmezzo dici a sette gradi e due decimi mentre vediamo questa immagine che ci arriva dalla zona di Bordano dal monte Simeone con il tagliamento eh sullo sfondo il capoluogo provinciale Udine diciannove gradi e sette diciannove gradi e eh otto decimi a Cividale diciannove gradi a eh Cervignano mentre vediamo un'immagine eh che ci arriva da Ragonia nel Lisontino a Gorizia il termometro segna diciannove gradi e due decimi a grado invece venticinque gradi. Il capoluogo regionale Trieste con questa bella immagine del golfo di Trieste venticinque gradi e tre decimi con una temperatura dell'acqua del mare leggermente superiore ventisei gradi e sei ventisei gradi e otto invece la temperatura del mare in questo momento a Lignano dove il cielo è davvero sereno non ci sono nuve nuvole e la temperatura dell'aria tocca i ventiquattro gradi e un decimo. Il cielo abbiamo visto è sereno su buona parte della regione qualche nuvola un po' di un po' di più di nuvole appunto in montagna come abbiamo visto anche prima sul monte Zoncolan ma adesso andiamo a vedere le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Un saluto e ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento previsionale agli amici di Udinese TV da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Alta pressione in rinforzo sul Friuli Venezia Giulia per la giornata di lunedì con caldo in intensificazione. in dettaglio diamo uno sguardo alla situazione attesa tra Udine e Pordenone. Ci attenne un lunedì soleggiato in prevalenza sulle zone di pianura mentre attesa una maggiore variabilità sui monti con qualche annuvolamento di passaggio che potrà dare luogo anche a disolati piovaschi di breve durata. Contesso climatico caldo con temperature massime in aumento che toccheranno punte di 32-33 gradi in pianura. Spostiamo ora la nostra attenzione sulla situazione prevista tra Gorizia e Trieste. Qui il sole sarà il protagonista per tutta la giornata con cieli sereni o poco velati contesto climatico anche qui caldo con valori oltre i 30 gradi. Con questo per il momento è tutto ma per sapere nel dettaglio quanto caldo farà da voi scaricate l'app gratuita di Trevi Meteo. Adesso siamo pronti per iniziare la nostra carrellata sulle prime pagine dei quotidiani nazionali. Ci sono ancora le olimpiadi in primo piano con la cerimonia di chiusura della giornata di ieri e il bilancio di questi giochi olimpici e poi ancora il tema coronavirus con il dibattito sulla vaccinazione in particolare per gli adolescenti e poi tanti altri temi la scuola e tanti altri ancora. Poi vedremo piano piano le notizie principali. Allora iniziamo subito con il Corriere della Sera. Ecco qua la prima pagina del Corriere e vediamo nel taglio alto giochi da sogno con 40 medaglie e nella foto vediamo Marcel Jacobs il portabandiera dell'Italia la cerimonia di chiusura dei giochi che per il nostro paese ha visto un record di medaglie azzurre. L'ultima è arrivata nella ginnastica ritmica una medaglia di bronzo e vediamo di spalla il commento di Antonio Polito. Questa è l'Italia dei ragazzi finalmente lo lo sport e il paese. Ancora vediamo le altre notizie a centro pagina. Vaccino piano per i giovani. Figliuolo ha detto corsie preferenziali senza prenotazione per i giovani. Intanto sale il tasso di positività nelle ultime ore. La sottosegretaria all'istruzione eh Floridia dice sì al Green Pass no alle sanzioni pecuniarie contro i eh presidi. E poi c'è anche la parola dell'esperto della pediatra Chiara Azzarri che dice le paure esagerate non bisogna aver paura di vaccinare gli adolescenti perché le dosi fanno meno male degli eh antibiotici eh dice. Sono molto rare le infiammazioni al cuore. E poi per la cronaca un corpo lungo il fiume giallo in Val Camonica potrebbe essere la vigile sparita a eh maggio. Queste le notizie principali sulla prima pagina del Corriere che oggi propone anche un'intervista al ministro delle politiche agricole eh Patuanelli che parla di un super bonus per le eh imprese. Ancora una notizia sempre sul Corriere della Sera che ci porta a parlare del clima, del meteo previsto per i prossimi giorni. Picchi di quarantacinque gradi al sud arriva al caldo record ed è rischio incendi. Andiamo anche su Repubblica. Vediamo in apertura di Repubblica eh centropagina Landini monito a Draghi niente sanzioni ai lavoratori. Intervista al segretario della CGL Landini che dice serve il Green Pass ma fabbriche e uffici sono in sicurezza. In accettare, inaccettabile punire i dipendenti che non hanno la certificazione. E poi sul fronte scuola i presidi chiedono assunzioni per i eh controlli. Covid riprende la corsa ai tamponi mentre l'epidemia frena scrive eh Repubblica. E poi vediamo anche le le prime righe eh del di questo articolo di apertura quante dimensioni contiene il concetto di lavoro ci ha salvati durante la fase acuta della pandemia nei giorni blindati del lockdown quando un popolo sotterraneo usciva ogni mattina dalle case dove noi ci eravamo rifugiati per sfuggire all' assedio eh del virus. E poi ancora per quanto riguarda lo sport visto che siamo in questo tratto di pagina in questa parte di pagina vediamo le lacrime di Lionel Messi che ha comunicato l'addio al Barcellona Messi e quelle lacrime di amore e nostalgia dopo ventun anni lascia il eh Barcellona ci sono anche amori che durano una vita ma nessuna storia ha più e per sempre abbiamo visto un papa lasciare il pontificato figurarci se non possiamo concepire Messi che se ne va dal Barcellona scrive eh Repubblica e ancora nel taglio alto invece anche qui lo speciale dedicato le Olimpiadi Tokyo le quaranta emozioni che ci hanno fatto sognare e vediamo le quaranta medaglie conquistate dal dall'Italia e tra queste ci sono anche quelle conquistate dai eh dagli atleti della nostra eh regione. Chiudiamo questa prima pagina di Repubblica proseguiamo con la stampa l'Unione Europea versa i 25 miliardi all'Italia prima tranche di fondi dall'Unione Europea per il piano nazionale di ripresa e resilienza sarà usata anche per il digitale Mattarella dice una spinta importante da Bruxelles sul fronte covid i presidi 8 mila assunti in cambio dei certificati obbligatori e sul fronte controlli chiuse due discoteche eh clandestine sul fronte politica Berlusconi rilancia il partito unico del eh centrodestra e invece a cento a centropagina ecco qua grazie ragazzi grazie agli atleti eh che eh hanno gareggiato e anche vinto a eh Tokyo. Andiamo anche sulla prima pagina del fatto quotidiano. Anche Lampi contro Durigon Conte dice ora deve eh dimettersi politici e società civile via il eh sottosegretario il fascio leghista scrive eh il fatto eh quotidiano che poi nel nell'approfondimento il fatto economico del del lunedì eh parla dell'inflazione la banca centrale europea cambia ma quel due per cento è un brodino una nuova strategia aggiornata dopo diciotto anni in realtà però è poco e fa felici soprattutto i falchi tutto tace invece sui flop eh passati e nel paniere entra la eh casa nel paniere appunto per eh calcolare il tasso di eh inflazione. Dal eh fatto quotidiano andiamo adesso sul giornale come vaccinarsi contro le fake news covid operazione verità l'Istituto Superiore di Sanità smonta bugie e complotti sui eh sieri e Piero Angela dice parlare con i Novax la scienza non è un' opinione Berlusconi i vaccinati tutelano la eh libertà. Ancora andiamo anche sulla verità il Green Pass è già un disastro economico scrive la verità altro che ripresa in sicurezza non solo da una falsa sicurezza a chi lo usa i primi tre giorni di debutto delle documento sono una mazzata per ristoranti cinema parchi divertimento in un periodo decisivo per consumi e turismo dopo il lockdown danni anche per la filiera agricola fermatevi dice la verità e poi in ghippo alla base del ricatto obbligo impossibile perché il via libera al vaccino è eh condizionato questo l'approfondimento della eh verità andiamo anche sulla prima pagina di Libero che invece apre con un'altra eh notizia con il la ripresa degli arrivi di migranti in Italia grana per il governo scrive Libero tre italiani su quattro dicono basta immigrati sbarcano in centinaia in Sicilia decine col covid il sondaggio bocciata la Lamorgese delusi pure gli elettori PD serve una eh svolta e poi eh Libero mette a centro pagina anche ehm le le parole di Malagò eh l'integrazione non fa vincere dice Libero eh medaglia di legno a Malagò da ehm da eh dal quotidiano da Libero eh perché eh Malagò vuole lo Ius eh soli ancora andiamo anche sulla prima pagina del foglio qui torniamo a parlare di scuola attraverso eh questo articolo di Marco Lodoli che è anche uno scrittore ma anche un insegnante e scrive la scuola che non vediamo la dedizione degli insegnanti la burocrazia inossidabile i ragazzi fiaccati dalla dad l'immaginazione che serve per costruire un nuovo futuro futuro oltre all'indignazione e c'è di più la scuola di oggi raccontata da uno scrittore che la conosce bene un viaggio oltre i eh vaccini scrive il foglio e leggiamo alcuni passaggi sono cinquantanove anni che ogni mattina mi mi potete trovare in un'aula scolastica inserendo nel calcolo anche gli anni universitari e non tenendo conto dei due anni di eh asilo gli insegnanti sono strane figure di adulti adolescenti una concentrazione misteriosa di due età differenti della vita il loro mondo sta quasi tutto tra le quattro mura dell'aula il cortile la biblioteca chiudiamo anche il foglio e andiamo sul gazzettino veneto record un milione di test gratis in sei settimane boom dei tamponi antigenici per ottenere il green pass a breve lo stop della regione il costo otto euro per i ragazzi e quindici per gli adulti e vediamo un passaggio di questo articolo in sei settimane di tamponi liberi e gratuiti il Veneto ne ha erogati più di un milione questo significa che in appena un mese e mezzo di piena estate si è concentrato oltre un decimo dei test complessivamente effettuati in un anno e mezzo di pandemia pur passata per ondate ben peggiori dell'attuale di fronte a numeri che oltretutto continuano a ingrossarsi a causa di un chiaro effetto green pass su quanti non si sono vaccinati la regione sta valutando il prezzo del test con ogni probabilità otto euro per i ragazzi e quindici per gli adulti e il direttore generale della sanità veneta luciano dice il sistema non regge stop alla corsa ancora rimanendo sempre in tema covid vaccini novax il piano del governo per convincerli campagne di comunicazione mirate per fasce d'età e categorie è una delle mosse del governo per arrivare alla quota dell'ottanta per cento della popolazione eh vaccinata andiamo anche qui eh a Tokyo qui vediamo la eh foto che ritrae le ragazze della ginnastica ritmica le farfalle con la medaglia conquistata ieri eh eredità e segreti di un'olimpiade trionfale quel che resta dei eh giochi scrive il gazzettino un'Italia vincente multietnica super integrata e soprattutto felice signore e signori eccoci a voi ecco a voi il miracolo olimpico i migliori giochi della nostra storia ci lasciano questo in eh eredità e poi il commento le medaglie di Tokyo e le scuole senza eh palestre scrive il eh gazzettino e poi vediamo le quaranta meraviglie Dana l'ultimo bronzo eh che ehm parla Veneto ancora sempre sulla prima pagina del gazzettino vediamo di spalla salto d'agosto a Venezia torna l'incubo del caos eh trasporti con il ritorno del turismo ai numeri del del prima pandemia del pre covid al mare boom di stranieri in montagna gli eh italiani andiamo anche nel taglio basso eh dove troviamo una notizia di cronaca a Bergamo un urto in strada e lo uccide davanti alla eh moglie torneremo più tardi sulle pagine del gazzettino per andare a vedere assieme le cronache dal Friuli adesso andiamo anche sulla pagina del sole ventiquattro ore un quotidiano eh economico finanziario anche in questa prima parte di rassegna vediamo che anche qui in apertura c'è il tema green pass eh in particolare per la scuola la scuola riparte ottantamila assunzioni green pass per i prof e accordo sicurezza scrive il sole dote di due virgola quattro miliardi su centododici mila posti già assunti trentottomila insegnanti fondi per l'organico covid e le classi pollaio via la mascherina se gli studenti sono vaccinati e poi vediamo a centropagina super bonus le mosse antiburocrazia scadenze troppo eh vicine servono degli interventi per rendere più agevole eh le tutte le procedure per il eh super bonus chiudiamo anche il sole ventiquattro ore per andare sulla prima pagina della gazzetta dello sport vediamo anche qui il titolo di apertura eccolo qua ecco la prima pagina i migliori giochi della nostra vita titola la gazzetta ecco qua il titolo di apertura Marcel Dio di Olimpia simbolo di una rivoluzione e vediamo Jacobs fulmina bolt mi aspettavo un messaggio da lui e ora non devo buttare i via eh i soldi azzurri almeno un podio al giorno l'ultimo è il bronzo delle farfalle e poi eh per quanto riguarda le varie discipline l'atletica è da dieci pesi ganna in company e le arti marziali tra i eh promossi poi torneremo anche sulle pagine interne della gazzetta dello sport per andare per andare a leggere un po' anche le altre notizie adesso è il momento di concentrare la nostra attenzione sulla stampa locale allora andiamo a vedere subito la prima pagina di e gazzettino piccolo messaggero veneto ecco qua il gazzettino il gazzettino del friuli e vediamo nel taglio alto il green pass la stretta sui controlli prefettura al lavoro per coordinare le operazioni mirate delle forze dell'ordine nel mirino i locali che sgarrano nei ristoranti e prime disdette vaccini medici di base a secco ieri in regione segnalati quarantotto nuovi casi di covid ma i ricoveri sono eh stabili ancora vediamo sempre in ambito eh sanitario doccia fredda sulle reti di salute il rapporto di Agenas eh evidenzia le lacune della sanità regionale dopo la bocciatura sulla rete oncologica regionale arriva la seconda doccia fredda sulle reti e tempo dipendenti eh cardiologica per l'emergenza ictus trauma e neonatologia e dei punti nascita con la rete trauma di fatto rimasta sulla carta a fare il punto è sempre l'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che pubblica i risultati della seconda indagine nazionale condotta tra il 15 settembre del duemila e venti e il quindici gennaio del duemilaventuno sullo stato di attuazione di eh queste eh reti sempre sulla prima pagina del eh Gazzettino del Friuli anticipiamo anche le news sportive con questa fotonotizia eh l'Udinese verso la Coppa Italia destini Udoge e la freccia eh bianconera un focus sul nuovo arrivo in casa eh Udinese che sta dimostrando le sue qualità in questo precampionato. Di spalla rifiuti sconti per le attività in difficoltà e poi eh il un incidente stradale fuoristrada con l'auto morto sul colpo un ehm un settantonovenne di eh Cussignacco l'incidente è avvenuto ieri a ehm Pavia di Udine. Ancora nel taglio basso ciclabili a Udine mancano i eh collegamenti attenzione alla eh mobilità e poi per quanto riguarda lo sport nel basket serie C Silver si partirà con quattordici eh squadre. Ancora sempre sulla prima del Gazzettino nel taglio alto per quanto riguarda la cronaca la scomparsa del direttore di eh Autovie Venete Engrico Razzini malore fatale nella notte addio al direttore Engrico Razzini c'è anche la sua mano nella realizzazione della terza eh corsia della A4. Per quanto riguarda invece eh la pagina eh della della cultura una mostra e tanti eventi a Villa Otelio de Carvaglio a eh Manzano. Chiudiamo il Gazzettino andiamo adesso sulle pagine del messaggero Veneto e vediamo anche qui i titoli principali cominciamo con il messaggero Veneto di eh Udine e vediamo la foto dei turisti in fila a Lignano per eh effettuare i tamponi per poter rientrare nel paese d'origine senza dover fare la quarantena. Turisti in coda per il tampone nel rientro a casa. austriaci e tedeschi fanno a Lignano il test per evitare la quarantena. In regione oltre centoventimila non immunizzati nella fascia d'età cinquanta settantanove. E questo è il titolo di apertura del messaggero Veneto di eh Udine. Nel taglio alto morto per un malore a sessantasei anni Razzini il manager di autovie e terza eh corsia e poi l'incidente stradale ha percotto un pensionato di Cussignacco resta ucciso nell'auto fuori strada. Vediamo anche le altre notizie sempre sulla prima del messaggero Veneto di Udine e le Olimpiadi che si chiudono l'Italia dei record bussa alla porta bussa alla politica eh ora Iussoli e tutele per il eh CONI queste le parole di eh Malagò missione compiuta dietro i successi degli azzurri alle Olimpiadi di Tokyo c'è un piano fatto di particolari che non si vedono ma che contano per riuscire a salire sul podio e l'organizzazione che ha messo gli atleti azzurri di poter gareggiare in sicurezza e senza pressioni ai eh giochi e poi vediamo ancora nel eh taglio basso il tema dei parchi fotovoltaici e sostenibili la sfida per il futuro scrive Paolo Hermano e poi si parla anche di eh Flulidoc Flulidoc che dovrà fare i conti con le nuove regole eh per quanto riguarda il Green Pass Green Pass Varchi e Green Pass le nuove regole per Friulidoc ed è proprio questa la notizia che apre il fascicolo di Udine del eh messaggero Veneto ecco qua Friulidoc fa i conti con il Green Pass tra varchi di sicurezza fa i conti con il covid scusate tra varchi di sicurezza e eh Green Pass il certificato verde sarà obbligatorio e gli ingressi andranno riorganizzati per permettere i controlli il Green Pass sarà obbligatorio anche per Flulidoc la conferma è arrivata nel corso dell'ultimo vertice organizzato in prefettura per fare il punto sull'applicazione della nuova misura introdotta dal governo nella lotta al covid e così tornano anche i varchi perché riuscire a verificare che tutti i partecipanti alla chermesse no gastronomica in programma da giovedì nove settembre alle diciassette e trenta fino alla mezzanotte di domenica dodici abbiano la certificazione verde non sarà per nulla semplice visto che la manifestazione coinvolgerà molte vie e eh piazze il sindaco Fontanini dice pianificheremo gli accessi e faremo le dovute verifiche è un sacrificio necessario per uscire da questa eh pandemia resteranno obbligatorie anche le altre misure anticontagio dal servizio al tavolo al divieto di eh assembramenti. Rimaniamo su questo quotidiano ma spostiamo la nostra attenzione adesso sull'edizione di eh Pordenone e vediamo quali i titoli eh principali nella destra eh tagliamento vediamo che la prima pagina è eh la stessa con le le stesse eh notizie e in primo piano eh invece nel eh Pordenonese ci sono le sagre costrette a gestare a gettare la spugna a causa del eh covid l'estate e da sempre tempo di sagre feste di paese o di quartiere a Pordenone ogni frazione la sua e dietro quelli che sono eventi spensierati e occasioni di aggregazione ci sono mesi di lavoro decine di volontari che dedicano il loro tempo alla comunità in cui eh abitano e eh questo è l'articolo che troviamo in prima pagina sull'edizione di Pordenone diverso appunto rispetto alla prima pagina di Udine la prima del fascicolo di eh Pordenone invece eh analizza gli effetti covid sui cantieri lavori della piscina sospesi slittano le ciclabili lungo il fiume rivisti nel piano di gestione i tempi di alcuni interventi anche il comando dei vigili e la scuola Lozer. Qualche mese un anno data da destinarsi nel lungo elenco degli obiettivi che l'amministrazione comunale si è prefissata arrivano dei cambiamenti dovuti all'emergenza covid o semplicemente a nuove priorità a registrarli il piano esecutivo di gestione approvato dalla giunta Ciriani che fotografa lo stato di avanzamento dell'amministrazione settore per settore al 30 giugno. Bisognerà attendere l'estate del prossimo anno per completare l'intervento alla nuova sede della polizia eh locale e poi ancora al comando dei vigili e anche gli interventi in alcune scuole che subiranno appunto dei eh rallentamenti e dei eh ritardi. Chiudiamo questa pagina del eh messaggero Veneto e eh andiamo adesso sul piccolo il piccolo di eh Trieste e vediamo anche qui i titoli di apertura la Slovenia apre alle barche non immatricolate le capitano le capitanerie di Pirano e eh Capodistria via mail dicono sì al transito dei diportisti diretti in acque eh croate. La sosta però resta eh vietata questo in attesa di eh accordi ufficiali scrive il piccolo e poi vediamo anche qui le olimpiadi con la cerimonia di chiusura dei giochi olimpici a rigato il saluto giapponese da Milan a Tonut una grande festa per i nostri atleti impegnati appunto nei giochi olimpici di eh Tokyo duemila e venti. Chiudiamo adesso anche questa pagina del piccolo e eh continuiamo con lo sport andiamo ad analizzare adesso le pagine sportive e dei quotidiani locali poi ritorneremo anche sulla stampa sportiva nazionale allora riprendiamo in mano le pagine del eh gazzettino e eh andiamo a vedere le principali notizie sportive ovviamente ampio spazio anche qui alle olimpiadi allora vediamo proprio nelle primissime pagine del eh giornale le eh le immagini della cerimonia di chiusura con un titolo dedicato invece all'Italia vincente e integrata il miracolo Italia record di quaranta medaglie distribuite in sedici regioni Lombardia la più titolata dieci sul podio a nord est una spedizione con radici nei cinque continenti e Malagò dice ma senza ius soli sportivo perdiamo eh talenti c'è anche un'intervista a Marcel Jacobs che dice sogno il bis a Parigi bello fare la storia l'atletica è una scuola di vita detto il campione olimpico spero che tanti giovani seguano il nostro esempio e poi ovviamente nelle pagine eh successive ci sono anche le eh le foto di tutti i medagliati eccole qua l'ultima dalle farfalle d'ana bronzo eh veneto arrivate in diciannove discipline diverse anche questo è un record la prima mista della vela le inedite dal karate sono mancate le squadre ci consoliamo con le eh staffette ma adesso andiamo proprio sulle pagine del fascicolo sportivo del eh gazzettino che guarda già in apertura all'inizio del campionato dell'udinese verso la Juve scrive il gazzettino e poi è l'approfondimento l'articolo di apertura che dice Deulofeu diventa eh cruciale nel taglio basso invece il Pordenone con l'amichevole giocata ieri contro il Bologna i neroverdi fanno sudare il Bologna finisce quattro a due ma ehm i ramarri segnano per primi con eh pellegrini e allora chiudiamo adesso questa pagina per eh iniziare a sfogliare le pagine del fascicolo sportivo e vediamo per eh quanto riguarda eh l'udinese ecco la la pagina con tutto l'articolo Cristo Pussetto la strana coppia si fa applaudire lo spagnolo Gonzales e l'argentino Nacio sono tra le sorprese positive del ciclo di amichevoli dietro invece restano ancora diverse cose da eh rivedere scrive il eh gazzettino dai test contro l'Empoli Luca Gotti ha ricevuto risposte importanti e positive quelle che si attendeva l'udinese sta crescendo a tutti i livelli individuale e collettivo sta migliorando anche la condizione fisica e atletica e soprattutto il primo tempo dei bianconeri contro i pari grado eh di Andrea Zoli genera eh fiducia scrive ancora il gazzettino ma ci sono poi anche delle note meno liete che eh chiamano in causa la eh retroguardia serve un difensore centrale perché Noiting da il meglio quando viene schierato sul centro eh sinistra e sul fronte calciomercato le voci dicono che piacciono i napoletani o un assettutino mentre sfuma la pista eh Cornelius andiamo nel taglio basso e vediamo l'approfondimento su Destiny Udoge è già una furia sulla fascia eh mancina è questo sicuramente una delle note eh positive di questa eh preparazione precampionato di queste ultime amichevoli precampionato rimanendo sul gazzettino andiamo a vedere anche la pagina eh dedicata al eh Pordenone eccola qua Orgoglio Neroverde ma vince il Bologna scrive il gazzettino Alteghil segna Pellegrini poi i rossoblu capovolgono il risultato applausi dai tifosi il ricordo di Darione Fagotti mister Paci ha detto fatte buone cose il Pordenone cresce ed esce dal campo a testa alta malgrado la sconfitta ha fatto vedere diverse buone cose nel test match di lusso di ieri sera contro gli Emiliani formazione militante nella massima serie italiana allenata da una vecchia volpe della panchina come Sinisa eh Mihailovic e questo è l'articolo dedicato al Pordenone che troviamo sul eh gazzettino adesso cambiamo quotidiano e andiamo sulle pagine del messaggero Veneto andiamo a vedere anche qui le eh principali notizie sportive ovviamente in eh apertura dello sport anche qui troviamo le Olimpiadi con l'Italia dei tanti record ora bussa alla politica Ius Soli e eh Coni eh tutelato queste le parole di eh Malagò chiusi giochi più vincenti di sempre il presidente Malagò si toglie qualche sassolino e lancia gli azzurri verso Parigi chiedendo più attenzione e provvedimenti rapidi la nostra Italia è multietnica e superintegrata abbiamo migliorato le previsioni più realistiche e reso felice un paese abbiamo gettato le basi per una serie di eventi internazionali che potrebbero esserci nei prossimi anni nel nostro eh paese e ancora vediamo il battito d'ala delle farfalle vale un bronzo di lacrime e gioia l'ultima eh medaglia eh per per l'Italia il a chiudere eh come sempre i giochi olimpici la maratona che ha visto il eh bis eh del eh dell'atleta keniano Kip Koji fa il bis come eh di Chila un altro oro per lui così come a eh Rio. Chiudiamo questa pagina vediamo anche la pagina successiva che ci porta a parlare sempre di olimpi di olimpiadi ma in chiave eh regionale grazie ragazzi nel bilancio straordinario dell'olimpiade azzurra ci sono anche le tre medaglie friulane ma tutti meritano un plauso per aver rappresentato degnamente la nostra regione. Brandolin ha detto viva i medagliati ma io applaudo tutti gli atleti. Il presidente del CONI fa il bilancio della spedizione olimpica italiana e quella del Friuli Venezia Giulia. Questi risultati dicono che l'autonomia dello sport è sacra e non va eh toccata dalla eh politica. Spero che questi risultati stuzzichino la voglia di fare sport nei bambini di oggi. L'emozione più grande me l'ha data la staffetta quattro per cento. Lo confesso ho eh pianto ha detto il presidente del CONI eh regionale. Passiamo adesso al calcio e vediamo per quanto riguarda l'udinese venti giorni di fuoco per capire l'udinese tra partite e mercato. Si riparte venerdì sera con Lascoli in eh Coppa Italia. Poi Juventus e Venezia al Friuli in campionato. Stoppa le trattative subito dopo. Servono almeno tre pedine per completare la rosa scrive il messaggero. Attacco. Gino Pozzo ha chiesto Royal Chelsea e aspetta la decisione del danese Cornelius. difesa piace eh Valucchevic centrale del Cagliari per la fascia destra il francese eh Sopì e poi ehm queste appunto le voci eh di ehm mercato riportate dal eh messaggero veneto e eh nel taglio basso anche qui eh si parla di eh Udoge e il mister mi chiede di giocare come so Udoge sta dimostrando di saperci fare il diciottenne prelevato dal Verona nelle prime avichevoli si è mosso bene sulla fascia eh sinistra. questo per quanto riguarda l'Udinese ma vediamo anche il eh Pordenone anche qui eh il eh il report dell'amichevole di ieri poker del Bologna il Pordenone deve registrare la difesa in vista dello Spezia. I neroverdi concedono troppo la squadra di Mijailovic e Piacciano in fase offensiva anche se sbagliano troppi eh gol. Chiudiamo il messaggero Veneto eh di eh oggi e eh torniamo adesso sulle pagine ehm dei quotidiani sportivi eh nazionali. Abbiamo già visto prima la prima pagina della Gazzetta dello Sport, il titolo di apertura, adesso andiamo su Tutto Sport e eh Corriere eh dello Sport. Vediamo anche qui i titoli eh principali fra Olimpiadi e eh calcio. Cominciamo con eh Tutto Sport, quaranta e lode, titola nel taglio alto Tutto Sport, le Olimpiadi di Tokyo si chiudono con il bronzo delle farfalle nella ginnastica ritmica, quarantesima medaglia di un'edizione trionfale per l'Italia. Malagò proiettato su Parigi duemilaventiquattro e dice non è impossibile eh ripetersi. E poi invece per quanto riguarda il calcio vediamo una foto della Juve a centropagina, stecca Juve, lampi di gioco dei bianconeri fermati dalle grandi parate di netto ma il Barcellona alla fine si aggiudica il trofeo Gamper con un secco tre a zero, le ragazze travolte sei a zero nella sfida con le eh catalane e questa è la prima pagina del eh corriere di eh tutto sport andiamo adesso anche sul corriere dello sport anche qui nel taglio alto 40 volte grazie salutiamo Tokyo con il record di medaglie l'ultimo bronzo conquistato dalle farfalle della ritmica Jacobs sfila con il tricolore la soddisfazione di Malagò è il successo di un'Italia multietnica e super integrata. Nel taglio centrale invece il calcio anche Lautaro dopo l'avvio di Lukaku un altro big nerazzurro nel mirino dei club inglesi il Tottenham offre 85 milioni ma l'Inter stavolta resiste a Parma due a zero Cori e striscioni contro Zang c'è l'ok di Zecco ma si complica la pista Zapata. La Roma cerca lo svedese Isaac e poi a sempre a centropagina vediamo il pianto di Messi che saluta il eh Barcellona Messi il pianto d'addio non ero pronto. Leo saluta il Barca già oggi volerà a eh Parigi ci sono lacrime e lacrime scrive eh Zazzaroni che dice le lacrime dei vincitori e quelle dei tanti vinti ai giochi di Rio che si sono conclusi tra altre lacrime di atleti, tecnici, dirigenti, accompagnatori e volontari. Quando una splendida e coinvolgente avventura di sedici giorni finisce esci dal film e non torni a essere un interprete del eh quotidiano. Le lacrime di eh Messi il più grande dopo Maradona la cui fragilità è inferiore soltanto alla eh genialità scrive Zazzaroni. E poi di spalla un riassunto delle big in campo eh nelle nelle partite per il campionato la Juve cade a Barcellona, Lampi di CR7, Milan, Maignan protagonista pari con il Real, insigne subito da applausi e eh il Napoli eh va. Questa la prima pagina del Corriere dello Sport eh stadio con la quale chiudiamo questa nostra rassegna stampa di oggi come sempre abbiamo solo il tempo per ricordarvi gli appuntamenti principali di questo lunedì sul nostro canale alle dieci ci rivediamo con la prima edizione in diretta del nostro TG l'informazione live anche alle dodici alle sedici alle diciannove alle ventidue e trenta alle venti e trenta il TG del Veneto e poi oggi è lunedì quindi ampio spazio al calcio l'appuntamento quotidiano con pomeriggio calcio alle diciassette e trenta e poi alle ventuno in prima serata udinese tonight ancora in versione estate. Ed è davvero tutto per il momento io vi ringrazio come sempre per essere stati con noi e vi auguro una buona giornata. e a